Questo lavoro, queste storie, queste 100 storie delle rinnovabili è veramente interessante e oltretutto si incrocia con il lavoro che noi come Fiera stiamo facendo, quindi di raccontare storie virtuose, di raccontare un paese che è all'avanguardia dal punto di vista delle tecnologie, delle soluzioni, ma anche proprio del pensiero, quindi dell'innovazione. Diciamo che queste 100 storie, alcune di queste erano note, alcune non erano note, ma ringrazio Enel e Fondazione Simbola che hanno fatto un lavoro proprio di ricognizione di sistema proprio per creare anche interconnessione tra le varie tecnologie e tra i vari sistemi, in particolare l'accumulo ma anche tutte le forme di energie rinnovabili che sono necessarie per decarbonizzare il nostro paese, per decarbonizzare l'Europa e raggiungere questi preziosi target, importantissimi target al 2050.